Oggi vi presento il libro illustrato Lola e la banda farlocchi di Adrian Albert, edito da Baba Libri nella collana Super Baba. I fratelli farlocchi sono una banda di ladri pasticcioni, non hanno mai un soldo in tasca e besticciano sempre disturbando i vicini. Ecco perché hanno bisogno di Lola, una bambina saggia e intraprendente che con l'aiuto di una macchina da cucire li aiuterà a realizzare un piano che cambierà la loro vita. Questo libro fa parte della collana Super Baba dedicata alle prime letture. Alcuni libri sono scritti in stampatello maiuscolo come questo e altri in stampatello minuscolo. Perché? Perché le esigenze dei piccoli lettori e delle piccole lettrici cambiano in fretta, perché non tutte le storie richiedono lo stesso stile e perché i gusti sono gusti e Baba Libri crede con fermezza che la lettura debba essere prima di tutto un piacere. Questo libro è Lola e la banda farlocchi di Adrian Albert edito da Baba Libri.